Venedì 31 In azione sono entrati i poliziotti della squadra mobile della questura di Frusinone i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frusinone impegnati nella cattura di numerosi individui di origini parte europee dediti alla commissione di truffe e dani di persone anziane in tutto il territorio nazionale tra gli arresti eseguiti sono una decina sacarono il nome dell'operazione le tecniche utilizzate erano quelle del finto appartenente alle forze dell'ordine o del finto avvocato lo scorso 7 luglio dalla quinta sezione della corte di assidio di Napoli veniva pronunciata la tendenza di condanna del gastro per Raimondo Caputo detto di troppo l'accusa di aver ucciso la piccola Fortuna Lofredo la bimba che nel 2014 fu lanciata da un buon cura del parco verde di Caevano alla sua compagna invece Mariana Fabozzi venivano combinati 10 anni di reclusione per concorso negli abusi sessuali dell'uomo su altre bimbe dopo tre mesi iniziano ad emergere le motivazioni della sentenza 186 pagine che ripercorrono le varie tabbe delle indagini esaminando ogni particolare che ha indotto la corte per infliggere il massimo della pena attito questo ultimo viene descritto come privo di qualsiasi senso morale classificato come un sex offender per la corte scrive il Corriere del Maggiorgiorno il processo ha fornito elementi plurimi e convincenti per affermare che il giorno dei fatti Raimondo Caputo nella deliberata esecuzione di un atto di predazione sessuale e danni di fortuna la portata con sé sul terrazzo all'ottavo piano del rimasto con lei fino al momento della precipitazione in ogni caso a quale che sia la ragione contingente che ha spinto Caputo all'omicidio scrive la rocola ai giudici essa si fa resa comunque come avverrante e perversa priva di qualsiasi senso morale e rispetto per l'altro aveva cercato di uccidere la moglie con una malazza da baseball nell'agosto del 2014 per questo Tommaso Izzo 59enne ex dipendente comunale di Grazianise in provincia di Caserta dovrà espiare una contanna residua di 8 anni di cacere l'uomo si è visto consegnare ieri dai carabinieri della stazione di Grazianise il provvedimento di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capovetere e ha imputato anche i reati di minaccia grave e porto abusivo di anni la guardia di finanza di Napoli ha eseguito perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dell'imprenditore Giovanni Lombardi indagato dalla procura della Repubblica di Torre annunziata per reati tributari le perquisizioni scaturiscono da reati tributari accettati nell'ambna di una verifica fiscale svolta nei confronti della Mille Stampe S.R.L. di cui il legale rappresentante è Vincenzo Sessa ma della quale risultano di fatto Giovanni Lombardi sia Lombardi che S.R.S. risultano indagati le deposizioni dei finanzieri oltre che nei confronti di Lombardi riguardano anche le abitazioni di S.R.S.A. gli uffici della Mille Stampe S.R.L. e gli altri uffici che sono nella disponibilità dei due indagati tra Castellammare di S.R.S.A. e il capoluogo partenopeo Blitz dei Nass in via San Nicola a Palma Campania in un noto caseificio della zona gli uomini del nucleo antisofisticazione di Napoli insieme all'arma della locale stazione dei carabinieri forestali hanno sequestrato circa 740 kg di caciocavalle in fase di stagionatura ed asciugatura durante i controlli infatti i isolati dell'azienda non sono riusciti a esibire alcuna documentazione idonea a comprovare la tracciabilità o la rintracciabilità dei 7 quintali e mezzo di formaggi l'attività comunque resta aperta viene in produzione anche perché all'interno non sono stati trovati problemi dal punto di vista igienico-sanitario accusati di essere dei fichi ciechi pur di ottenere la pensione di invalidità di infiali di già dall'Inps archivi a tutto erano realmente non vedenti si conclude senza alcun indagato a indagine condotta dalla procura di nocere inferiore nel 2014 dei riguardi di 5 persone formalmente indagate per truffe ai dadi dello Stato l'archiviazione è stata chiesta e ottenuta dalla procura dopo il sollecito del GIP a svolgere nuove indagini attraverso una consulenza tecnica è stato dimostrato che le 5 persone erano effettivamente non vedenti così come ora, all'epoca dei fatti le accuse raccolte in un'informativa dai carabinieri riferivano di persone che assumevano comportamenti incompatibili con lo stato di intensità assoluta e con questo per il momento è tutto grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima giornata grazie per la visione